salve gente sono tac19 alias alberto carrafa benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi sto facendo dopo grande richiesta nel discord di persone che non conoscono praticamente le basi di come si gioca ed o pro di spiegare più o meno come funziona allora da cosa possiamo partire prima introduzione per chi non sa cosa sto guardando e mi scusi in anticipo se la telecamera ha un minimo di lag di qualche secondino con labiale ma non avendo il green screen è tutto renderizzato prima di tutto edo pro è il simulatore di yugioh pro quindi significa che se voi non avete edo pro questo tutorial non mi serve a niente mi serve semplicemente un qualsiasi simulatore esistente del yugioh completo quindi non due links e neanche il coso della conami ufficiale che ha tutte le carte tra virgolette complete ma in realtà non ha niente perché è sempre limitato con le ultime carte uscite la particolarità di edo pro invece è proprio il fatto che ci siano fino alle ultimissime carte in circolazione se andiamo online a vedere un qualunque match troviamo davvero tanti mazzi di tutti i tipi dai match la legge so beccano tutte le stanze bloccate c'è tipo questo ragazzo sta giocando una carta che sarà appena annunciata free tactical talents che è una carta davvero forte però nei simulatori ufficiali della conami se non facessero un aggiornamento vero e proprio per aggiungerlo come dlc questa carta non ci sarebbe a tutti gli effetti quindi tornando a noi come si gioca a yugioh preparatevi ad avere una gran dose di informazioni però seguitemi con calma che andremo lineari prenderò il mio mazzo attuale un mazzo che probabilmente avrà un video in futuro se vi piace prendete spunto ve lo sconsiglio perché è molto strano e questo mazzo è il mio desk bot karakuri con isincro e c'è anche un pizzico di hansen ghiera questo mazzo è un mazzo combo è una tipologia il combo nel senso che fa tante combinazioni tante vocazioni tante cose conclude con un terreno che in teoria da fastidio all'avversario io dico in teoria perché chiaramente esistono le carte che possono abbattere il mio mazzo però chiaramente sono molto specifiche e devono essere messe apposta quindi ci arriviamo però prima partiamo dalla base un mazzo come sappiamo è composto da mostri magie trappole questi sono i mostri vedete col mouse queste sono le magie e queste sono le trappole ogni carta ha delle particolarità la parte base che consiglio a tutti i player e di leggere se voi vedete che vi evocano desk bot 3 e leggendo nel testo c'è scritto quando questa carta evocata normalmente può evocare specialmente un desk bot dal deck e poi c'è un altro effetto voi quando vedete sull'evocazione desk bot 3 e magari avete una carta che può bloccare l'effetto rispondete un esempio evoco desk bot 3 attivo l'effetto rispondo con hash blossom oppure evoco desk bot 3 attivo in permanence dalla mano quando viene attivato l'effetto di desk bot 3 questa è un'altra particolarità che arriveremo che è avanzata sempre se vi piacerà questa serie di video video spiegherò anche la questione delle catene ma per adesso atteniamoci sul livello base quindi questi sono i mostri base cioè sono i mostri con effetto perché esistono anche i mostri senza effetto c'è mostri normali questo ad esempio un mostro normale perché non ha effetto oltre mostri normale con effetto ne esistono una caterba una marea di mostri li vedete qui abbiamo i mostri fusione questi sono l'extra deck perché ricordo che ci sono c'è il mazzo minimo 40 carte c'è l'extra che contiene mostri mostri dell'extra deck c'è fusioni quelli che vi arriverò ad elencare e poi c'è il side deck che è questo qua sotto il side deck viene gestito nei match quando tu fai un match dove devi affrontare una persona alla meglio delle due cioè se tu vinci due volte hai vinto il match durante la partita se tu ad esempio vinci la prima partita e sai che il tuo avversario può scegliere di partire per primo visto che ha perso sai di si usa questo termine questo inglesismo fuori le carte del mazzo che non ti servono per primo e metti carte per secondo un esempio nel mio mazzo è lì match che è la carta per secondo d'eccellenza è la carta che tu vai per secondo la peschi 90 per cento ricasi disintegri il tuo avversario non vi spiegherò il perché perché una cosa avanzata ma lo vedremo in un altro video se vi piacerà questa serie tornando a noi fusioni queste sono le fusioni polimerizzazione quindi due mostri fondo con polimerizzazione o cinque mostri come in questa carta che ne richiede 5 evocazione per fusione esistono anche altri tipi di fusioni tipo una particolarità è abc abc si fonde come c'è scritto nel testo per questo dico sempre di leggere senza polimerizzazione ma rimuovendo i materiali dal terreno o dal cimitero oppure un'altra carta che è simile che xyz che invece non ha le regole di abc ma pretende di essere fusa fondendo i materiali dal terreno ragazzi bisogna leggere questa è un'evocazione per contatto cioè contact fusion poi ne esistono tantissime quindi leggetevi sempre le carte che utilizzate e queste sono le fusioni poi esistono i rituali i rituali non fanno parte dell'extra deck ma sono semplicemente rimosse dal mazzo che per evocarli serve una magia di rituale e un rituale che questa carta blu acea che semplicemente tu hai la magia rituale attivi la magia rituale hai la carta rituale in mano c'è questo mostro rituale in mano e per evocare questo rituale devi offrire dalla mano o terreno sempre per quanto c'è scritto sulla carta ricordatevi di leggere il numero totale di mostri con il quale i livelli sommati arrivano al rituale quindi se tu devi evocare un livello 9 rituale tu devi offrire un 4 un 5 come livelli di mostro con i due mostri con velo 4 livello 5 la quale somma fa 9 ed entra il rituale chiaramente se ci sono regole supplementari o regole aggiuntive bisogna leggerle dopo il rituale ci sono le 5 meccanica similissima l'unica differenza è che vi serve un mostro non tuner ed un mostro tuner di base vi do un esempio molto semplice io come sincro uso per esempio trisciula trisciula questa carta richiede un tuner e due non tuner che significa che se tu hai un tuner di livello 1 e due non tuner di livello 4 1 più 4 più 4 tra 9 evochi trisciula easy molto semplice i mostri tuner per specificarlo sono questi mostri che hanno scritto nel testo anzi faccio vedere gli attenti quelli che ho nel mazzo hanno scritto nel testo tuner come potete vedere c'è scritto nel mezzo fra macchina ed effetto non sposto il mouse perché se no si perde la posizione comunque questo è un tuner ad esempio e c'è scritto quindi stare tranquilli dopo i tu dopo i sincro abbiamo gli exis gli exis è stata una meccanica introdotta quando fece l'utopia questa bellissima carta si evocano in questo modo voi avete sul terreno due mostri con lo stesso livello dovete evocare utopia e quei mostri sono di livello 4 bene è un'evocazione per sovrapposizione si prendono due mostri si mettono uno sopra l'altro ed evochi tramite evocazione exis utopia perché i requisiti sono due mostri dello 4 esistono 50 milioni di evocazioni exis diverse hanno fatto un bordello la konami però vi anticipo che questa era base per le altre cose leggetevi il testo ad esempio ho voluto un esempio stupidissimo evocazioni exis avanzata utopia del lighting si fa utilizzando un utopia che controlliamo sul terreno quindi è un evoluzione exis non lo so perché la conami fa queste cose però è un dato di fatto dopodiché hanno creato poi i pendulum i pendulum sono questi mostriciattoli che direte che cos'è perché ci sono dei numeri perché c'è un doppio effetto i mostri pendulum valgono sia come mostri con effetto che come magia che significa tu il nostro pendulum o lo attivi nella scala pendulum che ai lati del terreno vedete 1 e 2 questo è un'altra scala pendulum e quando vengono attivati nella scala pendulum valgono i loro effetti pendulum cioè praticamente l'effetto che sta in alto una volta per turno puoi lanciare un datore a 6 finché bla 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 effetto inutile questo è l'effetto pendulum invece se dovessero evocare essere evocati come mostri varrebbe il testo da mostro quindi vi do ad esempio questo bellissimo mostro che non ha effetto mostro una descrizione ho beccato l'unico che non ha effetti un pendulum con effetto guadagna difesa equivalente alla difesa di tutti i per formal sul terreno che controlliamo quindi sono gli effetti da mostro ma se sono nella scala pendulum l'effetto mostro non vale e viceversa se sono nella scala pendulum altra particolarità importantissima se abbiamo un mostro tipo di scala 8 come questo ed un mostro di scala 3 perché c'è scritto 7 qua c'è scritto a livello scusa confuso scala 7 che questa qua noi possiamo fare una evocazione pendulum che significa se a destra o a sinistra mettiamo uno di scala 7 e uno di scala 3 noi possiamo fare una volta per turno con quella scala se non viene distrutta una evocazione pendulum che va dal livello 4 a livello 6 di mostri dalla mano o dall'extra perché mano extra perché i mostri pendulum non vanno al cimitero di norma ma vanno nell'extra deck quando vengono distrutti quindi tipo viene distrutto in battaglia da effetto va nell'extra poi c'è un altro ruling che potrebbero finire nel cimitero ma è una cosa avanzata quindi pendolo ma non sacco di cose fighe la konami è impazzita per crearli finché si sono rotti le palle e li hanno limitati quando hanno creato i link i link la meccanica più nuova i link funzionano così noi abbiamo desk bot 1 e desk bot 3 sul terreno desk bot 3 e desk bot 1 sono due mostri macchina e desk bot 1 è un tuner noi possiamo fare ad esempio in questi casi evocare criston questo criston hulk fibrax che si chiama needle fiber in america o almeno doveva chiamarsi così ma konami cambiano i nomi quando fanno i pofting dice nel testo evocabile soltanto con due mostri includendo un tuner quindi la condizione di vocazione è rispettata evocazione link mando i materiali al cimitero entra criston e partono cose perché criston sulle vocazioni fa effetti chiaramente esistono tanti link ad esempio prendiamo quello che è il primo ad essere uscito è the god talker the god talker un link 3 quindi di base servirebbero tre mostri tre mostri con effetto ma non per forza tre perché nel testo c'è scritto due più effetti monster che significa che se noi avessimo criston ed un mostro con effetto altro perché ricordatevi che i mostri classici valgono uno e most link valgono o un valore singolo o il loro valore link quindi criston può valere o uno o due ma se vogliamo fare the god talker con criston come potrete immaginare due più uno fa tre e quindi evochiamo the god talker perché le condizioni di vocazione minime dicono almeno due mostri con effetto e quindi facciamo the god talker molto semplice niente di difficile non credo di aver dimenticato altre meccaniche perché sono queste questo sono poi ci sono i gemelli che sono rarissimi mostri gemello li vedo davvero pochi hanno semplicemente un doppio effetto union che sono un'altra tipologia che diventano tipo mostri equipaggiamento come delle magie che si equipaggiano e fanno qualcosa ne esistono davvero tanti ragazzi i mostri scoperta i mostri tune i mostri spirit carte che diciamo vanno e non vanno però in questi casi basta leggere non sono carte particolarmente difficili da utilizzare quindi vi ho detto praticamente tutte le carte le più importanti adesso sta a voi ma non ho finito ancora di darvi consigli cosa fare adesso fate finta che qui dietro non c'è un mazzo quindi per favore non prendete per forza spunto da questo mazzo potete fare anche un vostro mazzo con le carte che vi piacciono basta che non sia andare tipo non so prendiamo il mio anseghiera ignorante faccio un clear temporaneo a fare non so un mazzo così cilindro magico 3x mirror force 3x poi prendiamo gaga gigo gaga gigo gaga gigo gaga gigo gaga gigo gaga gigo e componiamo praticamente un mazzo che è inutile e quindi non ha senso in questo caso perché un mazzo del genere non farebbe niente non farebbe nulla semplicemente voi iniziereste il vostro turno con un brick perché questo è una meccanica c'è uno stile di gioco vecchio che ormai nel 2020 adesso che sto registrando il video non serve più a niente quindi cosa consiglio di fare andatevi a cercare un mazzo non sapete giocare avete bisogno di informarvi andate a vedere nel momento attuale perché sì o questo video potrebbe anche perdere di valore nel passare del tempo e vi componete un mazzo ad esempio se io avessi visto questa carta cioè se io avessi visto anseghiera nel 2019 questa carta non veniva giocata perché uscirà dopo ed è una carta che entra particolarmente in combo nel mazzo quindi che cosa farei se io voglio trovare un mazzo anseghiera scrivo metto un po' più a sinistro anseh un t gear deck adesso siamo nel 2020 di aprile oh c'è questo ragazzo che ha fatto un video è l'exordio del duellista mi sembra molto bravo c'è un link del download del deck oppure potrei leggermi il deck e comporrono a mano così posso mettere anche le carte che voglio o no oppure capisco perché le ha messe oppure se voglio capire come lo gioca vediamo la partita che ha fatto esistono davvero tanti youtuber stranieri che trattano yugioh ce ne sono pochi in italia però devo ammettere che sono davvero bravi con gli stranieri a creare mazzi e io traggo molto spunto da loro però molte volte me li creano anche da soli un esempio è stato l'antimeta che ho fatto in passato e i prossimi mazzi che vedrete sicuramente come l'ho già a bcxyz che ci voglio fare un video appena questa quarantena finirà quindi detto questo ragazzi l'ho detto tutto se avete delle domande o richieste speciali mettetele qui sotto nei commenti che se vi piacerà questa serie di video continuerò con altri video del genere sperando che questo canale si riconverta anche in qualcosa più judioso quindi detto questo data 19 è tutto spero che vi sia piaciuto il video ciao a tutti